L'hanno scritto e mi piace come l'hanno scritto, dal Sudafrica al resto del mondo il passo sembrerebbe breve. La nuova variante Omicron sta attraversando rapidamente i continenti e in Europa è già presente in molti paesi, ospite indesideratissima, Italia compresa in questi paesi. I dati che arrivano dai nostri ospedali cominciano giustamente a preoccupare le autorità, soprattutto in certe regioni. Vediamo da questo articolo, in tre regioni reparti pieni oltre la soglia di allerta. Se tu parlavi di un ospite sgradito come il Covid, noi parliamo di un ospite graditissimo invece come il dottor Dario Manfellotto, direttore della medicina interna dell'ospedale Fatebene Fratelli Isola Tiberina di Roma e presidente della federazione che riunisce tutti i medici internisti ospedalieri e quindi in prima linea anche quest'anno per cercare di tenere botta al virus. Allora, secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali è salita al 9% la percentuale di posti occupati nei reparti ospedalieri. Questo già comincia a essere un qualcosa che non piace e questi sono tutti i pazienti positivi al Covid. Friuli Venezia Giulia, in giallo da lunedì, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano. Sono queste le tre che apparivano, diciamo così, nell'articolo. Si stanno riprendo i reparti Covid quindi, nuovamente? Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, le regioni che Benedetta ha citato sono le regioni di frontiera, il Friuli che sconta la prossimità con la Slovenia, poi Bolzano, la Valle d'Aosta, perché adesso l'epicentro che l'anno scorso era, e all'inizio dell'anno scorso, era nel nord dell'Italia e adesso è prevalentemente nell'Europa centrale e centro-meridionale. Questo significa che i casi stanno aumentando. Devo dire che non è come l'anno scorso. Ecco, l'anno scorso noi, in questa epoca, avevamo già gli ospedali e i reparti completamente occupati da pazienti, e da pazienti molto critici. Quest'anno i reparti, adesso i reparti si stanno riempiendo, siamo a una soglia ancora non di allarme critico, i malati stanno aumentando, stiamo riaprendo in molte regioni, in molti ospedali, i reparti Covid o le zone grigie di isolamento, di tracciamento, però non abbiamo i pazienti critici, gravi e gravissimi, nella stessa percentuale dell'anno scorso. Questo è l'aspetto sicuramente positivo e sicuramente legato alle vaccinazioni. Parliamo delle terapie intensive. Da ultimo abbiamo apprezzato i notiziari, soprattutto del RAI, che hanno dato conto dell'alleanza di fatto tra la Germania e l'Italia per quello che riguarda l'assistenza e la cura dei malati critici in condizioni di necessità di terapie intensive. E si è parlato di un ricambio, di un favore che ci è stato fatto. Questa comincia a delineare l'idea di Europa a che noi tutti amiamo. Ci ho detto però, sono sotto pressione le strutture dedicate alle terapie intensive. In questo momento stanno reggendo ed è almeno possibile fare una previsione in tempo breve? Ma guardi, ha fatto un commento che avrei fatto io, cioè questo dell'Europa. Effettivamente il sistema Europa, anche dal punto di vista sanitario, deve essere coeso, deve lavorare, deve collaborare. Ricordo ancora come un anno fa si diceva il modello tedesco, no? Ci hanno meno pazienti, hanno più terapie intensive, muoiono di meno. Da noi perché? Maggiore mortalità, occupazione di posti letto. Adesso la situazione sembra ribaltata, tant'è vero che hanno chiesto aiuto alla Lombardia per ricoverare alcuni pazienti. Credo che effettivamente la soluzione sia quella di una cooperazione totale fra i paesi europei. Gli storici, professore, credo che rileveranno questa data, l'inverno del 2021, come segnale di uno sforzo in chiave europeista. Quindi sono contento di segnalarlo. Io però segnalo anche un qualcosa che si sta ripetendo rispetto all'anno scorso, cioè una carenza di posti, una carenza di spazi per coloro che devono avere dei ricoveri normali, ordinari. Non parliamo poi della prevenzione. Questo articolo qua, che avevo letto anch'io, è di una donna, anche giovane, che dice che sono malata di tumore, ma non mi operano per colpa dei Novax. Inteso questo, e le chiedo conferma, che i reparti che si stanno riempiendo, come ci diceva lei, anche se non in soglia critica, sono immagino di gente che non abbia avuto vaccino. E in più le chiedo una riflessione su tutti gli altri pazienti. Quindi stiamo da capo a 12. Noi sappiamo però una cosa, che sicuramente i Novax rappresentano un problema, e siamo tutti molto critici nei confronti di chi non si vaccina. Però nei reparti sono anche pazienti che si sono infettati e sono vaccinati. Del resto, se noi sappiamo che la gran parte della popolazione, l'85% dei pazienti vaccinabili, hanno fatto due dosi di vaccino, vuol dire che ovviamente la grande maggioranza della popolazione ha fatto il vaccino, e quindi percentualmente rispetto ai Novax è chiaro che ci possono essere dei pazienti vaccinati ma positivi. Quindi non in terapia intensiva però ci sta dicendo. Ecco, il problema dei Novax è sicuramente, ma ormai è noto come dato, si infettano, si contagiano molto più facilmente dei vaccinati, contagiano e infettano più facilmente dei non vaccinati e vanno incontro a malattie che sono più gravi e gravate da una mortalità molto più alta dei non vaccinati. Quella che noi stiamo vedendo adesso è che la casistica dei pazienti che si ricoverano è sicuramente più modesta dal punto di vista clinico rispetto all'anno scorso. Cioè sono casi meno gravi. Poi ci sono ovviamente i casi gravi che evolvono anche rapidamente, ma percentualmente la gran parte dei pazienti non presentano delle criticità enormi. Le persone che si ritrovano in ospedale per colpa del Covid sono i non vaccinati. Glielo chiedo perché vogliono la sua opinione, professore, sull'obbligatorietà eventuale. Segnerebbe forse un clima di emergenza, però se ne parla tanto. Dal punto di vista puramente del medico, cosa pensa lei? Intanto, ripeto, noi abbiamo vaccinati e non vaccinati. I non vaccinati sono quelli che sono finiti e i dati sono noti nella gran parte dei casi in reanimazione e nella gran parte dei casi sono quelli che hanno avuto una più alta mortalità. Quindi il problema di non vaccinare significa una maggiore esposizione, un maggior rischio e sicuramente i pazienti che stanno in reanimazione sono prevalentemente pazienti non vaccinati. Ma con altissima percentuale. Con altissima percentuale rispetto ai vaccinati. Se lei mi chiede la mia idea sull'obbligo vaccinale, io sono sempre stato favorevole all'obbligo vaccinale per le categorie a rischio. Per me, se si arrivasse all'obbligo vaccinale per tutta la popolazione, credo che sarebbe una misura opportuna. Dottore, torno al punto sui malati, diciamo, altri non Covid. Che tipo di destino avranno in questa stagione invernale, visto un po' più di traffico di pazienti Covid? Avranno anche loro, diciamo così, saranno un po' trascurati come anche lo scorso anno? Guardi, c'è un dato. Nel 2020 rispetto al 2019 ci sono stati circa 2 milioni e mezzo di ricoveri in ospedale in meno a causa del Covid rispetto all'anno precedente. In medicina interna, i reparti nostri, circa 600 mila ricoveri di pazienti cronici, pazienti con insufficienza renale, insufficienza cardiaca, in meno rispetto all'anno precedente. Fino adesso avevamo quasi recuperato e quindi eravamo arrivati al pareggio, diciamo, fra i pazienti che dovevamo ricoverare. Adesso di nuovo stiamo cominciando a ricoverare meno. È chiaro che molti pazienti rimarranno esclusi perché se aumenta, come sta aumentando il numero di pazienti che si ricoverano per il Covid, ovviamente gli altri pazienti ne soffriranno. Professore, passiamo adesso al caso Omicron che ha portato alla ribalta il tema del sequenziamento. Il sequenziamento, mi correga se sbaglio, è quella tecnica che consente di identificare rapidamente le mutazioni in corso e in aspettativa nell'elenco delle probabilità per lo sviluppo di nuove varianti di questo virus. Eppure in Italia sono stati messi dei fondi a disposizione, ma è lenta la loro utilizzazione. Da che cosa dipende? Perché non spendiamo questi soldi per sequenziare il virus ed essere magari all'avanguardia nella ricerca. Noi all'avanguardia nella ricerca siamo comunque, perché l'Italia sta dimostrando di essere ad altissimo livello da questo punto di vista. Il sequenziamento viene fatto, i tempi tecnici sono quello che sono. Non farei un confronto con altre nazioni, anche perché poi dal punto di vista clinico non cambia molto. Perché ovviamente è sempre necessità di distanziamento, misure di protezione. Quale che sia la variante che noi affrontiamo dobbiamo proteggerci e poi il vaccino rimane sempre la soluzione. Si sta adesso valutando e vedendo se effettivamente i vaccini che abbiamo sono attivi anche nei confronti di questa ultima variante. I primi segnali sono buoni, quelli che vengono dal studio israeliano. E quindi direi che la vaccinazione rimane sempre la via maestra per arrivare a affrontare e risolvere questo problema. Rapidissimamente, un saluto di tipo ottimistico. È pensabile che ci possano essere delle varianti che attenuano la virulenza del virus? Sì, assolutamente sì. Questa è una delle ipotesi che ci sono. È chiaro che quanto più si vaccina, tantomeno il virus circola e tantomeno varia. Però il virus può anche variare non in senso negativo ma anche in senso positivo. Come se appunto si adattasse a una situazione endemica e quindi diventasse più lieve rispetto a quello che è stato fino adesso. Il suo auspicio ovviamente è l'augurio di tutti quanti noi. Grazie professor Dario Manpellotto. Grazie di essere stato con noi. Linea Benedetta.